non ho capito niente è un tuo problema di esposizione non un mio di comprensione non ho capito niente scusa chi ha detto chi ha, che cosa ma si parliamo dopo le 10 dopo le 10 tutto scorre più fluido sia di sera che di mattina meglio dopo le 10 è come le donne che si svegliano e ti dicono guarda prima di due ore non farmi parlare che... allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente i bastoncini tipo capitano ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce bastoncini del sottotenente fan contenti la mamma fan contenti i bambini fan contenti i merluzzi e chi disse di nuovo la scelta giusta adesso c'è nei negozi e online vi presenta Stato